Libero dall'occupazione abusiva con lavori durati quattro mesi tra materiali da scartare e disinfestazione costati 30.000 euro, Palazzo Napolitani Berenga nella Lanciano Storica è giacimento culturale della città. Così lo ha definito il sindaco Mario Pupillo nella visita guidata con la stampa e l'esperto Domenico Maria del Bello, che ha illustrato le caratteristiche storico-artistiche dell'antica dimora nobiliare. Il Palazzo Napolitani Berenga è uno dei cento palazzi storici di Lanciano, ma è uno dei più grandi e dei più antichi ed era fino a qualche decennio fa anche uno dei meglio conservati perché fino agli anni Ottanta era rimasto ininterrottamente di proprietà degli eredi della famiglia Napolitani Berenga. Il palazzo si compone di oltre 60 stanze, quindi è praticamente quasi un castello, si sviluppa su quattro piani, ha negli interrati addirittura una cisterra per l'olio talmente grande che non poteva essere spezzonata a vista perché non sarebbe stata una cosa molto intelligente scendere con una fiamma in un luogo che era pieno d'olio e arriva poi su fino alla torretta Belvedere. Gran parte di queste sale sono decorate con delle pitture, non delle vere e proprie affresche appunto, ma delle tempere che coprono un arco temporale di circa due secoli, quindi anche questo è un elemento di grande interesse, rappresenta un po' un campionario di decorazioni, un oggetto di studio per poter capire le modificazioni del gusto che comincia all'inizio dell'Ottocento con le sale più antiche e arriva fino al periodo Liberty. Sarebbe appunto importante recuperare questo edificio che purtroppo all'inizio degli anni 90 era stato destinato alla funzione di case parcheggio, per cui il primo intervento fu quello di eliminare i pavimenti antichi e le carte da parati che ancora rivestivano oltre una ventina di saloni. E sarebbe opportuno anche per recuperare un pezzo importante della storia della nostra città. Nelle intenzioni della Giunta Pupillo c'è quella di istituire la Pinacoteca della città anche con nuove donazioni importanti di autori contemporanei e al piano terra il Museo della Resistenza e della Memoria. Il sindaco avverte non mancherà lo spazio per la ristorazione come nei musei più moderni. Il piano terra prevede la creazione di un museo della resistenza, dei martiri lancianesi, della memoria e su questo noi lavoreremo subito con un progetto di fattibilità che ovviamente ci farà capire il costo di questa operazione. Il secondo e il terzo piano con l'impianto strutturale si predispone per una pinacoteca. È uno spazio vivo in cui gli aspetto culturali, di socializzazione, di incontro ma anche direi come nei musei moderni anche di ristorazione. È tutto da verificare. Oggi l'abbiamo liberato e l'abbiamo inserito in alcuni bandi del demanio per un'eventuale valorizzazione. C'è stato un tentativo da parte di acquirenti stranieri che non è andato a buon fine e noi siamo testardi e vogliamo continuare su questa linea perché questa è la strada dei musei perché partiamo dalle torri montanare dove ovviamente c'è il Parco della Musica poi c'è il Museo Diocesano, c'è il Museo Casasvoltore, il Museo di San Nicola e San Rocco e c'è questo spazio.